18 e 8 minuti inizia una nuova puntata di Pane al Pane. Ben ritrovati amici di Radio Lombardia con la voce di Nicoletta Prandi, la regia di Giacomo, la presenza dell'avvocata Elisabetta Cicigoi, docente al Politecnico di Milano di Diritto Ambientale e dei Beni Culturali presso il Master Policemaker. Benvenuta. Buonasera Nicoletta e buonasera a tutti gli ascoltatori. Non parliamo di polli con l'avvocata Cicigoi, anzi sì, perché i consumatori a volte vengono trattati come polli. Beh sì, in un certo senso. E noi dobbiamo parlare di greenwashing, ho tra le mani il suo libro, Greenwashing si chiama Fondamenti Giuridici e Pratiche Commerciali Sleali, edito da Paccini Giuridica, è un'esperta del tema, ricorderei agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cosa intendiamo quando pronunciamo l'espressione greenwashing. Allora, quando parliamo di greenwashing intendiamo il cosiddetto ambientalismo di facciata, cioè quando io reclamizzo, io azienda reclamizzo un prodotto o un servizio, vantando dei benefici ambientali che in realtà o sono inesistenti o sono minimi. E questa pratica commerciale è considerata una pratica scorretta, è una pubblicità ingannevole e quindi appunto tende a ingannare il consumatore, perché negli ultimi tempi si è notato che l'effetto green, cioè il fattore sostenibilità, ha quello che si chiama proprio nella tecnica di marketing l'effetto catchy, cioè proprio acchiappa il consumatore vantando appunto dei benefici ambientali di un bene o di un servizio. E quindi allora se queste pratiche sono scorrette in quanto questi vantati benefici ambientali non ci sono, allora si fa il greenwashing. Non so se sa in che ambito è nato, questo è un neologismo tra l'altro. No, ce lo racconti. Ecco, questo è un aneddoto interessante perché è un neologismo nato negli anni Ottanta per opera di un ambientalista americano, il quale era uno studioso, un biologo e si recò alle isole Fiji per studiare insomma l'ecosistema delle isole Fiji. E alloggiava nei pressi, cioè vicino a una grande e importante catena di hotel e fu colpito dal fatto che nell'interno della camera dell'hotel, nei bagni c'erano dei cartellini dove si invitava per risparmiare l'acqua e quindi per essere amici dell'ambiente a non usare, a usare più volte gli asciugamani all'interno delle toalette. Quindi c'era questo cartello che invitava appunto a essere coscienziosi da un punto di vista ambientale e il biologo però si accorse che in realtà questa importante catena di alberghi stava ampliando sulle isole Fiji le proprie strutture alberghiere, quindi con maggior carico antropico sull'isola, quindi con maggior uso chiaramente di acqua e quindi disse ma in realtà più che ai benefici dell'ambiente si voleva risparmiare sui costi di lavanderia. Cioè questo invito a dire riusa, non riusare l'asciugamano, cioè cerca di usarlo più volte, non usa e getta, era in realtà teso a risparmiare i costi di lavanderia e non aveva nulla a che fare con, da lì quindi towel washing, grain washing è nato questo neologismo grain washing che appunto da allora significa ambientalismo di facciata. Quindi è nato diciamo in ambito hotellerie ecco questo neologismo. Poi tra il lato anche ad altri ambiti pensiamo al pink washing però forse quello è un tema più recente guardando le... Adesso devo dire che il tema del washing, cioè la desinenza diciamo washing è usata appunto per pink washing, sport washing, cioè social washing e adesso infatti legato strettamente al green washing ci sarà anche il social washing. Adesso sappiamo che con tutto l'impatto dei fattori ISG, cioè le aziende dovranno dimostrare che la propria attività ha un impatto positivo non solo sull'ambiente ma anche sulle comunità, quindi ha anche un impatto sociale positivo e adesso ci sarà anche insomma il prossimo fenomeno sarà quello del social washing ecco. Poi ci aiuterà a capire anche in quale modo i regolamenti, le norme giuridiche proteggono i consumatori e fanno le verifiche sulle aziende. Sei d'accordo? Partirei davvero anche da alcuni casi concreti in modo tale che sia tutto più comprensibile. E parto da un marchio che tutti conosciamo, Shine, sul quale sono stati ravvisati due fronti di problemi, la trasparenza, la correttezza dei messaggi promozionali e anche la reale sostenibilità poi della produzione dell'abbigliamento che viene venduto. Sì, infatti questo è proprio una notizia recente, c'è il colosso della moda fast fashion che è colosso cinese ma opera attivamente anche in Europa, ultimamente è stata aperta da parte dell'autore dall'antitrust una indagine istruttoria contro Shane, Shine, non so come si pronunci ma comunque, perché sul proprio sito vantava appunto principi di economia circolare, cioè diceva che la propria produzione riutilizzava dei materiali e quindi questo, questa forma di riciclaggio aveva un impatto positivo sull'ambiente. Poi faceva dei claims, ecco quando si dice claims si dice messaggi pubblicitari, faceva dei claims volti a dire la nostra società mira a ridurre ben prima del 2050 le CO2 e quindi faceva degli annunci diciamo pubblicitari ritenuti troppo generici e non provati, non dico scientificamente ma non è stata data prova della correttezza di queste affermazioni e quindi l'antitrust che è l'ente competente in Italia ad aprire indagini nei confronti di greenwashing, quindi a tutela sia dei consumatori che anche comunque del mercato, perché poi queste aziende chiaramente fanno anche concorrenza sleale nei confronti di altri competitor e quindi l'antitrust ha avviato queste indagini e istruttori a volte appunto a chiedere a Shane di dimostrare la veridicità delle proprie affermazioni. Nel caso poi queste indagini si concludano, adesso siamo appena in fase istruttori, è stata avviata e se si ritiene che Shane non abbia sufficientemente provato queste affermazioni ambientali di vantati benefici ambientali allora ecco che verrà sanzionata. Ci tengo a dire che, e questo io lo scrivo nel mio libro, che adesso dal 2023 le sanzioni per pubblicità ingannevole a danno delle aziende sono aumentate fino a un tetto massimo di 10 milioni, quindi oggi come oggi ecco perché anche io ho rivolto il mio libro non solo ai consumatori ma ad aziende, a comunicatori in particolare, perché oggi qualsiasi etichetta di prodotto che voglio lanciare, qualsiasi campagna pubblicitaria, qualsiasi policy ambientale che oggi qualsiasi azienda bene o male è tenuta a fare dovrò veramente calibrare le parole che uso perché adesso è stata pubblicata nel marzo di quest'anno una direttiva comunitaria che entrerà, cioè il termine ultimo per il ricepimento nel marzo 2026 e che vieterà proprio l'uso di determinate parole generiche tipo non potrò più dire environmental friendly, amico dell'ambiente o sostenibile o ridotte CO2, se non darò testimonianza di o una marchio di Ecolabel o ci sarà una certificazione se no io non le potrò più usare. Questa cosa ci rassicura non poco, poi ci racconterà anche in che modo e se funzionano i controlli, voglio tornare sul caso Shine perché io confesso che per me è veramente lunare pensare che qualcuno non sappia e non conosca l'impatto inquinante di certi colossi che sono posizionati soprattutto nel sud e nell'est del mondo e anche, poi le farò anche una domanda sul tema dell'alfabetizzazione in questo senso dei consumatori, ad ogni modo, siccome va molto di moda anche proporre delle collezioni ecologiche, le chiedo anche da consumatrice se vuole, non nel senso che le acquista ma consumatrice di abbigliamento, basta una collezione per risanare un'azienda dall'impatto che a livello globale e guardando l'intera filiera produttiva determina sull'ambiente? No, allora una sola collezione non basta, però voglio dire è comunque un inizio, da qualche parte bisogna iniziare. Teniamo conto che questo ad esempio è uno dei motivi per cui Shine è stata messa sotto indagine, sono questi concetti di economia circolare che sono dei temi abbastanza nuovi, nel senso che sono stati teorizzati negli anni 60, però se ne sta parlando solo in tempi recenti. L'economia circolare è un modello di business per cui tu praticamente dal momento in cui tu produci un prodotto, questo non diventa mai un rifiuto, quindi può essere riutilizzato n volte o può essere il materiale recuperato per creare un altro prodotto, cioè l'idea dell'economia circolare è il fatto che non c'è mai un fine vita di un prodotto. Ecco che allora ci sono infatti molte piattaforme che adesso vendono il second hand o lo spacciam per vintage o usato, ecco questo indubbiamente che tra l'altro ci sono piattaforme che vendono abiti usati, che stanno andando molto forte tra le nuove generazioni perché indubbiamente hanno prezzi competitivi, le condizioni sono comunque buone e quindi sono appetibili. Allora direi che questi sistemi indubbiamente non risolvono il problema ma sono comunque un inizio e se non altro hanno il vantaggio di inculcare una cultura e una sensibilità nei confronti del consumatore e quindi direi che, perché poi parliamoci chiaro, il mercato è fatto da consumatori e da aziende che producono, quindi a domanda d'offerta, sta anche al consumatore essere un po' informato, un po' informarsi perché se io sono informato chiaramente poi ho anche una forza nel indirizzare la mia domanda e l'azienda cercherà di soddisfare la mia richiesta. Quindi ecco perché io un po' ho rivolto questo libro tanto ai consumatori quanto alle aziende, perché da un lato i consumatori devono essere anche i dotti di quelle che sono le proprie competenze e i propri poteri, nel contempo però le aziende chiaramente devono anche cercare di essere trasparenti nelle loro comunicazioni, che non è facile, devo dire. Lo ammetto, tra poco arriviamo con un altro caso di greenwashing, ma adesso c'è la musica di Radio Lombardia e prima ancora i nostri contatti. Elisabetta Ciccigoi con cui stiamo parlando di greenwashing, arriviamo al caso Campello e Microlino Italia. Direi totalmente distante dal caso Shine, siamo partiti parlando di prodotti che costano veramente poco, arriviamo ad auto elettriche che costano almeno 20.000 euro. Sì, forse con il caso di Microlino e Excel Car un po' meno, però quello che indubbiamente... Lo dico perché avevo controllato, l'avevo vista passare per strada, ho detto che carina, ma meno di 15.000 euro non costa. Ah, davvero? Ecco, allora... No, è molto carina. No, le faccio racconto io per venire qui in redazione, io ne ho visto una parcheggiatta in una via qui vicino, Sì, è un cioccolatino. Esatto, ho detto che aspita, è proprio segnale, le coincidenze. Cos'hanno combinato? No, hanno combinato questo, che loro hanno reclamizzato, ecco qui, anche qui l'autorità e l'antitrust ha fatto una cosetta moral suasion, che è una specie di richiamo, cioè gli hanno detto, guardate che abbiamo visto che, chiaramente su una segnalazione, hanno visto che sul sito erano riportate, erano dei vanti ambientali di riduzione al CO2 al 100%. Perché sono auto elettriche, lo diciamo gli ascoltatori. Però ecco, giustamente l'antitrust ha sollevato un punto e ha detto, sì, tu riduci 100% le emissioni nel momento in cui il veicolo è in uso, ma nel momento in cui ricarica non c'è la riduzione del CO2 per forza, perché io per ricaricare le batterie comunque alla fine mi vado ad approvvagionare a delle fonti energetiche che inevitabilmente sono di origine non rinnovabile e quindi emettono CO2. Allora, ecco, è questo, tra l'altro, è molto interessante questo richiamo che ha fatto l'antitrust, quindi non ha sanzionato le società, ma gli ha detto solo correggete i vostri claims. Anche perché in piena fase di transizione ecologica, nel momento in cui si sta facendo di tutto anche a livello politico-comunitario per convincere i consumatori ad acquistare auto elettriche, perché da soli non lo fanno abbastanza, c'è bisogno delle sussidi. Certo. Contrarre, diciamo così, l'enfasi comunicativa, capisco, può essere un problema per le aziende. Può essere un problema per le aziende, però l'antitrust in questo si sta ponendo in linea con quelle che saranno le nuove direttive, quelle di cui parlavo prima, cioè la direttiva sui green claims che entrerà in vigore, e cioè dovrà essere recepita entro il 2026, proprio in materia di CO2 richiede espressamente che sia specificato come tu riduci le CO2, perché hai tanti modi per ridurre le CO2. O, ecco, facendo chiaramente un'auto elettrica, è chiaro che c'è una fase del ciclo di produzione che non emetterà CO2, quindi dovrai specificare quale fase del prodotto riduce le CO2. Questo perché? Perché è stata proprio una scelta dell'Unione Europea, in quanto molte aziende fino adesso per compensare le emissioni di CO2 acquistavano crediti di carbonio, cosiddetti crediti CO2, magari, non so, andando a fare delle ripiantumazioni in Amazonia o in Costa Rica, e quindi si freggiavano di queste iniziative dicendo noi, siccome qui, faccio un esempio, emettiamo 100, ma risparmiamo 100 con dei progetti di riforestazione in Costa Rica, allora noi la compensazione è zero. Questa compensazione tecnicamente viene chiamata offsetting. E offsetting, la Commissione, cioè l'Unione Europea, quindi, in questa direttiva, dice, devi dichiarare che fai offsetting e quindi che riduci le CO2, ma in Costa Rica, che è cosa che non ha impatto sull'impianto produttivo dove tu vai a produrre. questo perché, perché se tu vuoi essere virtuoso ridurre le CO2, devi dare dimostrazione che le riduci nel luogo di produzione del tuo prodotto, allora è lì, quindi se fai dei sistemi di cattura delle CO2 o altri sistemi di abbattimento, allora questo lo puoi dichiarare. Se invece tu qui non fai niente, per dire qui in Europa, e invece fai in Costa Rica, non è ritenuto sufficiente. Meno male, lo fa anche il Comune di Milano, ma con una battuta le dico, fa più politica l'autorità garante della concorrenza che la politica stessa a volte. Beh, credo che sia una questione forse di competenza, indubbiamente, l'antitrust ha una competenza specifica in materia e hanno, sono state demandate negli anni, molte competenze su questo tema e quindi c'è un team fortemente preparato, ma come tutti gli altri autorità amministrative a livello europeo, che hanno competenze in questo. Ecco, quindi, per cui la funzione di questa nuova direttiva è di dire un po' ai consumatori, cioè informatevi e leggete soprattutto le etichette. Poi ci torniamo. Adesso noi siamo pronti per ascoltare le notizie regionali. Aggiornate la linea va al direttore Luca Levati. Siamo ancora in diretta su Radio Lombardia insieme all'avvocata Elisabetta Cicigoi che ha scritto Greenwashing, edito da Paccini Giuridica, che si occupa appunto di questo tema assolutamente attuale e sul quale voglio tornare ricordando i casi dei quali parlavamo prima, di aziende colpite da provvedimenti dell'autorità garante della concorrenza. E le chiedo, le molte sentenze moral suasion fanno giurisprudenza tra virgolette, ovvero quando viene emanata una decisione nei confronti di un'azienda, anche le altre aziende sono tenute a conformarvi, sì o no? Allora, costituiscono sicuramente dei precedenti. Allora, le decisioni dell'antitrust hanno sicuramente un valore, possono erogare sanzioni, sanzioni che, come dicevo prima, possono arrivare fino a 10 milioni di euro per effetto di una direttiva cosiddetta Omnibus che è entrata in vigore da noi nel 2023 e quindi indubbiamente le decisioni e soprattutto il supporto motivazionale di una decisione dell'antitrust costituisce un precedente. Però, essendo un organo amministrativo, le decisioni dell'antitrust possono essere impugnate davanti al TAR e al Consiglio di Stato, che sono i due organi di giustizia amministrativa. Quindi il TAR può anche ribaltare una decisione dell'antitrust e altrettanto il Consiglio di Stato, che è l'organo di appello, quindi di secondo grado, può modificare anche una sentenza del TAR. Quindi possono essere decisioni definitive se non vengono impugnate, ma è comunque consentita l'impugnazione davanti a degli organi di giudizia. Però è sempre bene che le aziende tengano d'occhio quello che accade? Sicuramente sì, e quindi però voglio dire che in questi due casi che adesso lei ha citato, nel caso di Shane è aperta un'indagine istruttoria, quindi non c'è ancora una decisione. Cioè siamo in quella fase di contraddittorio dove l'antitrust dice azienda dimostrami su questi punti che io ho sollevato, come puoi provare i benefici ambientali e quindi qui siamo ancora in una fase di istruttoria, non c'è una decisione. Quindi l'azienda ha ancora il contraddittorio aperto e quindi può dimostrare le proprie ragioni. Nel caso invece delle macchinine elettriche, lì c'è stata una cosetta moral suasion, cioè è praticamente un avvertimento dove l'antitrust dice guarda, ho visto che potresti eventualmente incorrere in una condotta ritenuta ingannevole, quindi e se l'azienda quindi ascolta questo, è un consiglio, diciamo moral suasion appunto. Il poliziotto buono, la moral suasion. Ma io trovo che sia molto corretto questo approccio, nel senso che, allora ripeto, non vanno demonizzate le aziende e non vanno neanche chiaramente esaltati i consumatori. Quindi cioè, ripeto, il mercato è fatto da due forze, è da due forze, da una domanda e un'offerta e quindi entrambe devono collaborare in ottica di sostenibilità. Ecco, perché oggi il mercato purtroppo per fortuna, ma la sostenibilità ormai è un fattore sempre più immanente nelle politiche aziendali e questo lo vediamo non solo in questi ultimi provvedimenti relativi al greenwashing, ma lo vediamo anche in tantissime altre situazioni. Cioè, oggi ormai un'azienda, a parte ci sono molte aziende che sono obbligate a fare i cosiddetti bilanci non finanziari, cioè i bilanci dove anche dai evidenza di quello che fai per la sostenibilità, per la comunità. ci sono aziende poi che per attirare finanziamenti e quindi rientrare nel cosiddetto filone della finanza sostenibile devono dimostrare di essere compliant, cioè di essere in conformità a certi standard di sostenibilità, famosi standard ESG. Quindi, voglio dire, oggi il fattore della sostenibilità è veramente immanente nel nostro mercato. è un aggettivo davvero calzante quello che ha identificato. Ci sono dei mercati più esposti a fenomeni di greenwashing? Mi viene in mente ad esempio quello alimentare. Allora, quello alimentare potrebbe essere più esposto da indagini che sono state fatte dalla Commissione Europea che io poi cito nel mio libro. Ad esempio, la Commissione Europea ha notato che il settore dove il greenwashing è maggiormente sentito il settore è quello dei combustibili e seguito sicuramente dal settore cosmetico e anche dal settore alimentare. Quindi abbiamo diversi settori. Ma quello cosmetico è una riperassegna? Non ho sotto mano. So che al primo posto era appunto il settore dei combustibili e la Commissione poi ha stilato una graduatoria e ha indicato anche il settore sicuramente dei cosmetici e quello alimentare è uno di quelli sicuramente più esposto a questi fenomeni. E quindi questo cosa richiede? Una maggiore attenzione poi nelle letture delle etichette anche perché l'alimentare poi ci nutriamo e quindi forse dovrebbe esserci indipendentemente dalle leggi da che cosa dici ma ci dovrebbe essere comunque una sensibilità da parte di ciascuno di noi a leggere cosa riportano le etichette. A maggior ragione se riportano dei vanti ambientali adesso sappiamo che possiamo insomma essere un po' più attenti da questo punto di vista. Per chiudere questa intervista le chiedo non c'è nemmeno differenza tra mercati li chiamo così alti del lusso ovvero marchi molto famosi che fanno prodotti molto costosi non necessariamente sono sinonimo di qualità di trasparenza dal punto di vista dell'impatto ambientale o sì? Allora direi detto così direi di no non c'è una graduatoria tra bene e di lusso che poi bene e di lusso si intende spesso più costoso o bene meno costoso indubbiamente dobbiamo porci il problema che quando compriamo una maglietta a 5 euro per dire forse dobbiamo porci un po' il problema a chi ha lavorato e quindi la famosa supply chain indubbiamente un prodotto più costoso chiaramente probabilmente ci sarà più attenzione sulla supply chain quindi sui fornitori ci saranno quindi più obblighi di controllo anche su chi fornisce il materiale chi lavora chi produce eccetera poi abbiamo scoperto delle cose bruttissime guardando molti diversi marchi del lusso perché si è scoperto che insomma anche le condizioni del lavoro non erano affatto rispettate non guardando alla parte di filiera italiana chiaramente grazie avvocata Elisabetta Ciccigo torna a trovarci con molto piacere è stato un piacere spero di essere stata utile a voi e agli ascoltatori assolutamente sì infatti lancio happier